La 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 Spingi la mandibola vai su giu respiro forte respira espira поз permeare Uno Tre 4 5 ci 6 7 3 da fischiato 3 da fischiato e io continuare nella traccia studio ci saranno solo cosi non saprai quello giusto allora a raga eh ho la parte ma basta Quanti tieni sei fa c'è No Dredd veramente Ho finito la coca Io no se vuoi te ne do un po' Ce ne ho tantissima Mi sto bevendo una buona birra Alla faccia Una bella birra ghiacciata Per questo è il drogo corso E alla vostra e brindo anche al pelatino Che non c'è Ma guarda che pelato ci sono anche io Soprattutto prima di lui Eh ma Marzo ma tu non sei stato in grado di monetizzarci E farci dei like Vabbè comunque abbiamo anche dentro tra di noi Uno che si porta le fighe e le fa spogliare E non se le tromba Grande J Faz Ragazzi un applauso a Fabio Mollura Ma sono voi davvero Ma sono io Ma ragazzi qui non è bentornato Eccoci qui oggi con queste nuove Sdrogo forse Se fischiavi era il mio idolo Cazzo non ci ho pensato Dove bisogna andare in tutto questo raga A sinistra No dove vai Ho completamente sbagliato No Ragazzi non so capace a fare questa cosa io Fatto No fazzo Eh Cadma Ok Vedi Iniziamo subito No 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 Si Automatic race Adopole Cosa cazzo Oddio C'è una sfida di turbetti No ragazzi non ce la farò mai a fare questo Cazzo Vi ho servito una gara eccezionale Veramente Non ci arrivo No non ci arrivo Eh vabbè Sono atterrato sul cazzo Eh anche Gabbo non ce l'ha fatta Che bello Forse è bello Ah no Una marcia in più Ho già fatto il primo giretto Ciao Titti È semplice ma Eh si vola Queste sono le corse morbide Oh sto andando sul paracthool Sul coso Sul paracthool Cos'è il paracthool No regà sto finito Ah regà Dirigibile No non ci credo Sto finito sul dirigibile Esplo Era un paracthool Il paracthool regà Ho distrutto casa La sua casa diventava un fidget spinner Vai Teo così c'hai il titolo Oh oh Avevo il titolo per fare Andiamo in tendenza raga La casa di Marta è un fidget spinner Fidget spinner infuocato Ce l'ho fatto lo stesso Godo No Ah Ah Sesso col blu Sesso con bambini Con i bambini sempre Sì vabbè raga Comunque Ron c'ha i nuovi scaffe Non va bene Ragà codice sconto Ron Codice sconto La malagante spostati Cazzo No vedi Gesù C'ha proprio i piedi Storti Ragazzi che un grazie No Sto scopando donne Sto scopando donne Ma da quando è qua faze Faz è impossibile questa cosa Neanche quando arrivano nude da te Sei l'unico che ci fa i video Devi stare calmo Perché se arrivo secondo È come se ho scopato donne Non è vero Non è la stessa sensation Anche meglio in realtà Anche meglio Ma faze si eccita con la storia È tutto legato al plot twist Guarda che seconda posizione fantastica Il plot twist Signori No ragazzi per piacere fatemi arrivare Aia 30 secondi Marza Correre No non ci arrivo Guardalo Guarda quante porco No non voglio parlarne io di questa corsa Per piacere Voglio far dire che non averla mai fatta È bellissima comunque Ma mia madre è molto bella Vero 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 Basta ragazzi Sono fischi ovunque Vi prego Eh vabbè Allora Continuate No ragazzi sentite che bel rumore Sai zitti un attimo Sentite che bel rumore Oh bello Come la figa Quando ne di cazzo Esatto Un milione Zitti zitti Sai quando lo tiri fuori dal buco del culo Eh abbiamo tutti immaginato Silvia in questo momento Non è vero Dai Chissà come mai Le abbiamo soltanto fatte nel video di Dread che però uscirà tra due giorni Quindi sarò io ad averle copiate Allora a me è sempre sul cazzo Titti Quindi io adesso butto fuori Titti Mi dispiace Bella di Titti Ma che c'è che c'ha sta macchina Titti No raga No E vabbè Capo di Squeret Che macchine buone è questo scemo Ringraziamo G-Taz che presta le macchine Dai Io di buzio Raga Sì capo è un assassino Gabbo è il nuovo deluxe Raga Ci discorso Fate i buoni Raga Fate i buoni Boni Boni State boni Tutti boni Super boni Guarda come ci arrivo Che bella gara È vero Gabbo non l'ha mai giocata questa Allora È sorpreso per davvero Che dubido Non ha giocato una gara No Wow No Eh come l'ho messa bene No ci sono dei wool strani Dai allora ragazzi Però dobbiamo parlare di una cosa Come si fa sta cosa Questo pezzo qui Ah che pением Dai Gabbo l'abbiamo fatta per due ore di fila prima Dai eh In realtà è la prima volta anche per me perché prima hanno superato il culo È vero Fa cioè la lolla Fazz non l'ha fatta Eh ma trovo ancora vedi merda Agglomerati di cellule morte Ragazzi non possiamo anche evitare l'anatomia macabra nel mio video Vi posto un po' di cultura Pensavo studiata psicologia non l'anatomia in realtà studia anche quella in realtà non studia un cazzo in realtà non studia un cazzo adesso però si oncologia per fuzz attenzione eh il gruppo si è ricompattato guarda che non ci arrivo e l'ho detta che sto bevendo la birra invece che la cochina cioè questa è la cosa scandalosa eh si raga cioè veramente cioè ci ha fatto aspettare per sta cazzata faccio le sdrogocorse con la birretta e devi ancora arrivare a milione pensa a quando arrivi a milione quanto cambi sono più quello di una volta ora birretta alcol si parla di tumori nelle corse che schifo eh così si arriva al milione eh infatti così facciamo tutto domani mi faccio pelato raga ooooh dissing ooooh zitti che cosa ho detto dissing dissing eh io mi faccio i capelli ah no no raga io mi faccio la barba no ancora santo il padre onnipotente non ci posso cazzo credere leggendare in un pacchetto bastino amico ma come secondo posto raga è una cosa brutta nel senso ma marza ma che boh mi dava terzo posto poi non c'è stato un secondo ma sono arrivato terzo il verde eh ma ti prego ti supplico oddio che pazzone che schifo c'è pare che c'è ahahahah centro perfetto per il gabbo è l'unica pasta in cui non poteva fermarsi no raga non ci credo un gabbo irriconoscibile eh raga non so in forma rollercoaster style stunt race oh my gosh mamma mia c'è voglio provare per la prima volta la mia nuova osiris eh 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 test of a sick e intanto con la macchinetta dalla parte sbagliata lì boom la mia usiris ma che bella non si chiama quello che vende le pentole raga che respirava a panodamese ma strota no quello è il baffo voglio un video di blur come quelli del baffo raga su forza fatelo facile fare le gare già fatte vero via allenate eh per boicottarmi guardi la tua cassetta intanto gabbo va io non ce l'ho ancora la mia cassetta eh perché non ho ancora dato il tuo turno eh no eh vabbè guarda titti oh guarda titti smettete di insultarvi titti dolce son da solo forever alone ma non è vero Deo stiamo qua dietro eh tre giri tanto sti gran cazzo come tre giri eh non lo so era in default così ma ti devi manca per la gamba cado 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 anch'io una cifra ecco da primo ultimo fate le vostre puntate giocate io sono claudio amendo sei per volare oddio marzo ha superato tipo uno space shuttle si mi vanno a schiantare come ornella valoni ma raga sapete vi racconto un aneddoto che lasci nel video Teo ieri nella fiera dello svapo sono saliti sul palco un paio di ragazzi per fare di stupidi no con lo svapo e salito uno fa questa svapata lo dedico al mio gruppo whatsapp eh forever nazi ho detto oddio cosa un genio ho fatto la svapata ha corso ha fatto una scivolata per terra e ha fatto il segno del fascio nooo cosa no il top sarebbe stato se col fumo faceva una svastica si va che non si può fare no raga ma è stata una cosa incredibile però mi so cagato addosso raga ho detto qua chiamano gli sbirri oh è minimo e che ti frega no raga perchè qua failo sempre anch'io troppo sono volato fuori da solo zio tranquillo ecco ma guardate ma come giro 2 su 3 Teo ma cosa c'ha il cervello e mezz'ora quanto è arrabbiato gabbo ho iniziato il video a 25 anni non 27 basta sono veramente euforico ma guarda che sbaglio sempre è pazzesco pazzesca questa gara incredibile allucinante come lo fa nooo vedi che sbagliano tutti io mi voglio scopare fortissimo i dagli espi no perché comunque ho dread gabbo facciamo fare un figlio a a pachi e al cane mio non può più ingropparsela zio è vero che non c'ha le palle eh me la scopo io scusa bello sai che bello mezzo cane e mezzo marza secondo me è figo nasce un cane con la barba eh terrore abbaia quando abbaia dice tramo 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 è finita terza campionato me la godo gol di la merda anche su gta incredibile lui stiamo per partire l'ultima gara eccezionale ma basta maestro che tanto non ti fumi neanche le sigarette ma per me sei tu che ti dovresti fare di cocaina ma non l'hai messo il video è un contenuto ristretto per no no marza eh vabbè raga però il tuo miglior amico è deluxe ce l'hai con me ma anch'io sono andato fuori a non pensare è un gioco suicida blue whale challenge e c'è un pezzo blu tra l'altro io voglio iniziare a mettere tutte le peggio cose ristrittive in queste gare per vedere se mi bloccano in questo video abbiamo bestemmia incitamento al nazismo con gabbo di prima la blue whale cosa che manca a questo video la droga cioè il video più censurato della storia dovrebbero cancellarmi il canale fatto un tot veloce anche se non ci sto capendo una farla ma anch'io sto seguendo la strada a caso sto facendo un warride su un palazzo oh che rischio oh 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 vabbè ma sono pure esploso vabbè billade raga manca un po' di isis dai parliamo un po' dell'isis in sto video eh manca un po' di tutto quello eh dai non ho vinto manco una corsa ma almeno una ma volete aver vinto ma certo fazzo infatti la vincerai te questa è tua è già fatta è vinto il fazzottero oleee fazzottero credibile hai vinto una nuova zozza per un tuo video quindi chi ha vinto ron eh i think so che palle ma come che palle ma vinci sempre te ma se ne hai vinto te le ultime e vinci su fifa e vinci qua e mi hai rotto il caso eh ma è il campionato come la cosa c'è già la gente sai che fa posto a queste cose che rocket league proprio il dito nella piaga eh è il giro del mondo è tutto lui che schifo ron veramente fai proprio schifo comunque signori anche queste gare sono finite vi ringraziamo per aver visto il video mi raccomando lasciate un bel mi piace arriviamo a 27.000 like perché quando dico 30 quando dico 30 non ci arriviamo mai 27 magari e con 30 ron si fa no no vabbè dai sennò è troppo mainstream dai non è che vado a seguire le modi e le tendenze attenzione alla prossima ciao belore ciao belore alla prossima fidget spinner eh grazie ciao ciao ho scoperto il video da prima tendenza mi taglio i capelli con il fidget spinner con le lame wow ho scoperto il video da prima tendenza